Signore Presidente, unificando in questa locuzione i due Presidenti in Aula presenti, vorrei dirle che io sono in quest'Aula da parecchi anni, forse qualcuno dice anche troppi, e non mi era mai capitato nella mia vita che addirittura senza alcuna motivazione l'Aula è convocata alle nove e mezzo con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e, come dissi qualche settimana fa, trattati un po' da camerieri, ci viene comunicato che il Presidente del Consiglio arriva alle nove e cinquanta. Non è normale, Signor Presidente, non è solo un problema di educazione, è un problema anche di rapporti istituzionali. Sarei molto, sarei, lo so, adesso probabilmente si alza qualche collega dalla destra e dice che è colpa della sinistra perché c'era traffico, magari, perché voi siete capaci di tutto. Però vorrei dirle che mi auguro... Ma com'è che siete così eccitati? Adesso parla la Presidente del Consiglio, però fate parlare anche gli altri. Le vorrei dire, Signor Presidente, non so se gli uffici possono... È l'eccitazione. Sono eccitati. Vorrei dirle, Signor Presidente, che mi auguro che... Io posso anche, se questo eccitamento aumenta, io posso anche continuare, posso andare avanti così anche per quaranta minuti, come volete. Onorevole Giacchetti. Sì, Presidente, le voglio chiedere semplicemente se lei mi può aiutare con i precedenti degli uffici e farmi sapere se negli ultimi vent'anni è mai accaduto che la Camera, convocata alle nove e mezza con tutti quanti per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, viene rinviata senza una motivazione di venti minuti perché il Presidente del Consiglio non è in aula. Io non lo ricordo. Grazie. Grazie, Onorevole Giacchetti. Sicuramente le faremo pervenire e guarderemo tutti i precedenti. Andiamo avanti. L'ordine del giorno recca lo svolgimento di comunicazioni del Presidente del Consiglio di Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2022. La ripartizione dei tempi riservati alla discussione è pubblicata nel vigente calendario dei lavori. Avverto che, come convenuto in sede di conferenza dei Presidenti di gruppo, l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e le dichiarazioni di voto dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto avranno luogo con ripresa televisiva diretta. Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intanto mi scuso con il collega Giacchetti e con l'Aula perché sono stato io a chiedere al Presidente di rinviare l'inizio della discussione, non diremo ovviamente che è colpa di qualcuno, ma per un motivo oggettivo di traffico che non mi consentiva di arrivare in tempo. Non avevo previsto quello che ho trovato stamattina. E quindi mi scuso con voi e vi ringrazio per la vostra pazienza. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.